Sono Flavia Munceri e vi presento il corso di filosofia politica nelle sue linee fondamentali. Perché un corso di filosofia politica a scienze della comunicazione? Perché comunicare avviene in un contesto che è anche organizzato come un ordine politico con le sue particolari regole. Che vuol dire? Vuol dire che non è lo stesso comunicare in una democrazia, in una dittatura, in una monarchia, eccetera. Quindi, prima di tutto, affronteremo una preparazione di base sulla storia del pensiero politico, delle teorie politiche, eccetera. Naturalmente non, invece, sui partiti e sulle ideologie, quanto piuttosto sui concetti. Concetti come potere, individuo, autorità, ordine, tutti concetti che servono, secondo me, per comunicare. Ma, prima di tutto, ci concentreremo sul presente, sul presente della filosofia politica. Quindi su temi come globalizzazione, multiculturalismo, cittadinanza, anarchia, post-anarchia. Con un focus particolare sul concetto di diversità, sull'importanza della diversità etnica, sessuale, di genere, sulla disabilità, per la filosofia politica contemporanea. Perché? Perché questa è chiamata a proporre modelli di ordine adeguati al presente, in cui comunichiamo. E questo presente è un presente complesso.